Il Prova Piste è realizzato in collaborazione con l'assessorato al turismo della provincia di Bergamo. Il Prova Piste oggi è a Colere, qui siamo a quota 2200, stiamo per percorrere insieme a voi la pista Presolana, conosciuta anche come Pista Italia, che in passato, nell'88, nel 94, ha ospitato anche prove veloci di gare molto molto importanti nel campionato italiano e che ancora ospita grandi impegni sportivi. Una pista adatta a tutti, ma soprattutto a chi sa sciare. Noi ci proviamo, ci vediamo a metà. Abbiamo piste rosse e nere, un paio anche di blu. Il grosso divertimento qua è anche per gli snowboardisti, perché è un mondo un po' particolare, abbiamo parecchio fuori pista in cui loro si divertono un casino. Bene, a questo punto la pista si divide. Per i meno esperti la possibilità di una pista rossa, per i più esperti l'adrenalina dell'Esse Italia, con pendenze davvero eccezionali. Vi ricordo che proprio su questa pista sportiva ci sono le piste di protezione per mettere tutto in sicurezza. E chiaramente per sciatori esperti noi ci proviamo, perché l'adrenalina dell'Esse Italia non si può non provare, e speriamo di vederci giù. Andiamo! Ultimi 300 metri di questa lunghissima e bellissima pista. Prima della scheda finale andiamo a conoscere la simpaticissima Miriam dello Chalet dell'Aquila. Alla prossima! Ciao, io sono Miriam, benvenuti allo Chalet dell'Aquila. Siamo a Colere, chiaramente una stazione di Colere, a 2200 metri d'altezza. Abbiamo a disposizione stanze per il pernottamento, per passare delle belle serate diverse in cima ai monti. C'è di tutto da mangiare, da bere, da far festa, insomma, da stare bene e godersi una bella giornata in montagna. I'd like to give you everything I wanna, baby I'd like to tell you everything I know And say it's alright It's alright Ciao Grazie per la visione!